Il termo realizzatore di Roma è una scelta che era stata già presa dall'amministrazione di Roma, che ha già approvato anche il suo piano rifiuti. E questo è successo ben prima che vi fosse un congresso con le primarie e quindi prima anche che si insediasse questa nuova segreteria. Non era oggetto del nostro programma delle primarie. Io non ho ancora visto i testi, ci sono qui i nostri capigruppo, li ringrazio, però immagino che voteremo contro a questi ordini del giorno. Elislein ha sempre avuto posizioni ecologiste molto forti, però quando arrivi a fare segretario del partito devi far convivere tutte le anime di questo partito e le decisioni prese. Io ho atteso con grande attenzione, perché finora conoscevo la Elislein attivista, lei è stata eletta segretario del partito contro il partito. Il partito e i suoi iscritti avevano scelto Bonaccini, poi loro hanno questa regola secondo me bizzarra, per cui il segretario del partito non lo scelgono gli iscritti, che a quel punto io mi domando per quale motivo si iscrivono, visto che non hanno nemmeno il potere di scegliere, anzi c'è chi ha più potere di loro e chi sono i non iscritti, cioè dei passanti che vanno a votare per il segretario del partito, magari non avendo mai votato per il partito e non avendo nessuna intenzione di votarlo, però questa è la loro regola. Quindi lei è stata votata perché non era del PD, perché era l'opposto del PD. è stata votata per fare l'opposto di quello che fa il PD, però lei adesso è segretario del PD e deve rispondere ai dirigenti, agli amministratori, agli iscritti e questa è una contraddizione che non è sanabile, perché lei per far contenti gli iscritti e i dirigenti del PD deve diventare l'opposto della Schlein, mentre lei è stata votata segretario del PD perché facesse l'opposto di quello che faceva il PD prima. Il risultato qual è? È quella supercazzola che abbiamo sentito prima. Il risultato qual è? È quella supercazzola che abbiamo sentito prima.